Ben ritrovati amici e amici, come è stato? Un saluto a tutti, ben ritrovati su Milanello, il canale più seguito ogni giorno da Chiamina nel cuore, dai ragazzi è un orgoglio incredibile. Mi raccomando, commentate numerosi con il vostro punto di vista per arricchire di pareri la nostra community. Lasciate un bel like, ovviamente è gratuito, se amate il Milan lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella. Perché siamo tanti, oltre 95.000, ma mai abbastanza quando si parla di Milano, mi raccomando, quindi chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano, quella che oggi sta vivendo una giornata un po' così. Ecco, poi mi direte pensiamo a noi, eccetera eccetera, politicamente corretti, ma ragazzi non prendiamoci troppo sul serio e vediamo un po', adesso sviluppiamo un po' tutto, quindi mi raccomando iscrivetevi qui, è gratuito. E siete rossoneri doc, vediamo quanti sono i rossoneri doc dietro questo schermo, si iscrivono, i non rossoneri non si iscrivono. E vadano sui loro canali, detto questo però non possiamo non parlare anche di quello che sta accadendo, perché potrebbe esserci un effetto domino clamoroso a proposito di attaccanti e potrebbe riguardare anche il Milan. E parliamo anche di Milan di fatto nel tema Lukaku per delle cose che adesso andiamo a sviluppare. Innanzitutto però diciamo che c'è un'uscita che dovrebbe essere imminente perché Gabbia in questo momento è destinato al Genoa, con Gilardino, vecchia conoscenza del Milan, allenatore che ha fatto una grandissima stagione in Serie B, neopromossa, Gabbia che dovrebbe andare appunto in prestito al Genoa per giocare. Curiosamente lui lo scorso anno doveva andare alla Samp, rimane sempre lì, probabilmente gli piace Genova e andrà a giocare lì. Questo ripeto non mi fa quadrare qualcosa sul tema liste, perché con l'uscita di Gabbia, prodotto Vivai o Milan ci sarebbero soltanto. Pubega che oggi compie gli anni, auguri a Tommy, uno di noi, uno che ogni tanto bazzica anche su Milanello, mandateli tanti auguri, caro Tommy ti auguro cinque gol quest'anno con la madre del Milan. Vorrei dire sei? Facciamo che te ne auguro sei, ecco, poi se sono cinque va bene, uguale. E quindi vediamo che cosa succede, se viene promosso davvero il buon giocatore fresco di rinnovo fino al 2028, se ci sono altri piani, se c'è qualche altro giocatore, sono molto molto curioso, ripeto, di vedere che cosa accadrà. O se, alla fine, magari rimane Colombo come terzo, come terzo attaccante, come terzo della lista. Avrebbe un senso l'uscita di Gabbia a livello appunto numerico di lista. Se rimane Colombo come terzo, allora siamo coperti. Ma se non rimane Colombo come trapela dal Milan, allora, ripeto, c'è qualcosa che non torna. Però vedremo strada facendo che cosa sarà di questa situazione da non sottovalutare. Allora, questa è una lista perché già oggi, stando così le cose, avremo fuori quattro giocatori nella lista Champions. Capite come è importante poi per acquisire giocatori vendere, altrimenti aumentano quelli che sono fuori dalla lista. Oggi sarebbero Romero, Adli, Vasquez e un quarto da definire, insomma. Poi, ecco, ecco, apriamo un capitolo che non riguarda solo Milan, ma riguarda anche il Milan, che può portare un effetto domino. Poi vi parlo di un giocatore che potrebbe arrivare al Milan, le cui chance sono decisamente in rialzo. Non è Reinders, per il quale anche oggi lo si compra domani, verrebbe da dire. Per il quale oggi è una situazione di stallo che magari ha un epilogo felice nelle prossime ore. Speriamo, perché è diventato una telenovela e non ne possiamo più, sinceramente. Il giocatore, impaziente di vestire i colori rossoneri. Pioli, impaziente di averlo e di poterlo allenare per completare il reparto di centrocampo. Le vie del mercato sono infinite. Non stupiamoci più di nulla, lo dicevo, lo dicevamo, continuo a ribadirlo. Tema Lukaku. Tanto lasciatemi fare una battuta, però non mi dite pensiamo a noi perché siamo messi male, non stiamo comprando nulla. Va bene tutto, però prendiamoci due minuti anche di distrazione, o un minuto e mezzo, legato comunque al Milan. Lukaku è un rosso-nero doc, ragazzi. Lukaku ha fatto perdere loro due finali di Champions, quella in Europa League, quella in Champions. Ha contribuito a far perdere loro due finali di Champions. Non risponde al telefono a Marotta, non risponde al telefono ai compagni. Sta facendo saltare il loro piano di mercato, volevano vendere una nana per avere i soldi per Lukaku. E contavano di avere Lukaku. Sta facendo una mossa incredibile. Come un rosso-nero doc. Scherzi a parte, quando vi ho raccontato che ci erano stati contatti tra Le Dürre e Furlani, capite che non erano balle. Perché Le Dürre l'ha proposto sia il Milan, che ha preso informazioni, l'ha proposto la Juventus, che adesso pare possa portarselo a casa. Tra Juve e Inter preferirei andassero a Juventus, piuttosto che l'Inter. Perché l'Inter senza Lukaku, secondo me, viene un po' ridimensionata. E un'altra cosa la voglio dire, e spero che qualcuno apra gli occhi. Perché sembra che tutto quello che fa Marotta sia... Ah, tanto qua c'è Marotta, ah tanto... Marotta è bravissimo. Lo scorso anno però Di Bala, che tutti davano informazione, e noi stessi di ci mangiavamo nervoso. Perché non lo prendiamo noi Di Bala e Bremer? Non è andato né uno né l'altro all'Inter. Quindi la narrazione, la propaganda, spesso fa la differenza nei giudizi, nel stato d'animo dei tifosi, nel bene o nel male. Stesso discorso per Lukaku. Lukaku tutti hanno dato per scontato che tornasse all'Inter, l'Inter fortisse, per carità l'Inter è forte, ma senza Lukaku dovranno loro andare a buttarsi sul calcio mercato degli attaccanti, che stiamo vedendo con noi, non è così facile. Ecco, quindi il cavallo vincente lo si vede al traguardo. Oggi noi siamo indietro, speriamo di arrivare per primo al traguardo, di approfittare magari anche un po' delle difficoltà altrui. Il Milan comunque ha avuto contatti con le Dürre, il problema è stato non tanto il costo del cartellino, quanto l'ingaggio richiesto da Lukaku, che pur col decreto crescita, insomma, è fuori dalla portata, ed è nei parametri invece della Juventus, che andrà a offrire un ingaggio clamoroso e sta sorpassando l'Inter sul tema Lukaku. Lo dico, po' corn, perché il Milan ha fatto una figuraccia con Turam, ma se loro va così, voglio vedere, se scriveranno, se racconteranno, se diranno, questo è molto peggio di Turam, perché vengono presi in giro da un giocatore che era già loro, che si è professato interista, uno di loro, figurati, quando c'è la notizia, figurati se Lukaku, Lukaku ha detto mai alla Juve, mai al Milan. Ragazzi, le frasi dei giocatori entrano da una parte e escono dall'altra. Dovrebbe essere così. Quindi, lo dico purtroppo anche per i nostri. Però l'effetto Lukaku può essere un effetto domino. Cosa succede in questo triangolo di mercato? Lukaku, Juve, PSG prende Vlaovic e libera Ekitike. Che notizia delle ultime ore? Il PSG valuta 20 milioni di euro. Perché può riguardare questo effetto domino al Milan? Perché Ekitike è un giocatore che, prima della prova del PSG, Moncada ha fatto il diavolo a 4 per convincere la dirigenza di portarlo al Milan. Lui ricordiamo che ha 21 anni, è francese, è alto 1,89, scadenza con il PSG 2027, quest'anno ha fatto 25 partite in Ligana, 3 gole e 4 assist. Non ha fatto bene nel PSG in cui c'è una concorrenza estrema. L'anno prima giocava nello Stad Rams, aveva fatto 24 partite, 10 gole e 4 assist in Ligana. Ecco, io non mi scaldo con Ekitike, con Ekitike lo dico, non mi scaldo. Potrebbe essere un giocatore funzionale per lo schema di Pioli, sicuramente, sicuramente, mano sul fuoco, doppia mano sul fuoco, tutto quello che volete voi, è un profilo molto gradito a Moncada. Quindi attenzione, perché magari questo effetto domino potrebbe spingere il Milan verso Ekitike, che personalmente però non vedrei tanto come il Big. Ecco, se dall'altra parte per non Lukaku la Juve, secondo me noi abbiamo diritto a un grande colpo in attacco. Ekitike poi si è perso un po' il PSG, era un giocatore valido, ma non è una certezza. Se non vi ho bisogno di un punto esclamativo, avremmo bisogno anche di una certezza là davanti, come numero 9. E spero non sia Ekitike, che prenderei in aggiunta magari anche un altro, però mi rendo conto che non arriva al Milan eventualmente per fare il terzo. Però vediamo, in questo caso, il legame di apprezzamento da parte di Moncada deve accendere sicuramente una spia. Il prezzo 20 milioni può essere anche molto favorevole per un giocatore che rientra nei parametri Redbird, cioè giovane, che un domani magari posso anche rivendere a un prezzo superiore. Il giocatore che un anno fa mi faceva impazzire, però poi, rivalutando anche la stagione di un anno fa, è vero che era giovanissimo, perché un anno fa aveva fatto la stagione da 19 a 20 anni, ha fatto però 10 gol in Liga, neanche 20, 21, come qualche profilo nell'ultima stagione Liga ha fatto. Vediamo però che cosa succede. In tutto questo il Milan vuole fare tanto, deve fare tanto, ma vuole fare davvero tanto in questi 45 giorni che mancano a chiusura del calcio mercato, crescono nelle ultime ore sensibilmente le possibilità di arrivare a un giocatore con un incastro particolare, è una vicenda particolare, è un giallo, non soltanto per il club, il Villareal, il sottomarino, ma per altri aspetti. Il giocatore in questione è Arno D'Agnuma, che ha 26 anni, alto 1,78, piede destro, numero di maglia 16, esterno a sinistra del Villareal, che quest'anno ha fatto una stagione divisa tra Spagna e appunto il Tottenham, dove ha fatto male, dove hanno fatto male però tutti. È un giocatore interessante, non è il numero 9, ribadisco, ha la sinistra, all'occorrenza la destra, che ha fatto stagioni anche molto interessanti. Lui ha due reti in sei gare con l'Olanda, e adesso vi spiego perché è un giallo, ed è anche intrigante come giallo, come tutti i gialli degni di questo nome. Quest'anno ha fatto nove partite e un gol, in Premier League in 162 minuti. In Liga ha fatto due reti, in Conference due reti. L'anno scorso ha fatto 16 reti e 4 assist, in 34 partite tra Champions e Liga. davvero molto bene, l'anno prima 15 in Championship. È un giallo perché si è spostato al Tottenham in prestito. Il Milan sta parlando di lui con il Villarali in prestito. Ma lui è un vice, vice leao sulla sinistra. Quindi credo, ragionando insieme a voce alta, nonostante ci sia concorrenza, che possa essere magari l'incastro buono per sbloccare Ciucquezze dall'altra parte. Perché Ciucquezze gioca nel Villarreal, nello stesso club. Ciò è strano che io ti sto trattando un giocatore, voglio comprare questo caricabatterie. Voglio assolutamente questo caricabatterie, tu però mi chiedi 15 euro e te ne do 10. Io però bisogno, io ho Villarreal, di vendere questo caricabatterie, no? Quindi, perché se no tra un anno questo caricabatterie tu me lo porti via zero. Mi sembra strano che io per la stessa mattonella dico, no, allora dammi quello in prestito. Ti do 4 milioni, dammelo in prestito. Quella mattonella è un altro caricabatterie, no? Da auto. Io credo, vado per logica, che l'idea sia non ti pago 35 Ciucquezze. Cioè questo caricabatterie. Ti prendo, magari per 35 o qualcosa meno, due giocatori. Uno lo acquisisco, l'altro prendo in prestito. Quindi credo che Daniuma possa essere la tassa per sbloccare la trattativa Ciucquezze. Quindi, non avrò a bilancio poi Ciucquezze a 35, ce l'avrò a 30, i 4 comunque te li faccio arrivare e mi porto a casa Daniuma in prestito, che serve per per avere un'alternativa in più sulla fascia sinistra. Serebic va via. Secondo me questo è, questa è la, è la soluzione finale. Quando arrivi alla fine di un romanzo e dici, ah ecco, io la vedo così almeno, perché altrimenti non avrebbe senso. Noi stiamo parlando con gli agenti di Daniuma, stiamo parlando anche con i via real per Ciucquezze e magari si può fare due piccioni con una fava, perché Ciucquezze e Daniuma sono giocatori diversi. Uno gioca a destra, l'altro gioca a sinistra. Daniuma sulla destra come titolare non avrebbe un gran senso, perché gioca prevalentemente a sinistra. Quindi vediamo se si può fare questo doppio colpo. la risoluzione del giallo per me è questa. Però Daniuma davvero ha tante, aspettiamo, ha buone chance di vestire la mano del Milan. C'è concorrenza, ma c'è anche questo incastro che può sbloccare il tutto. Daniuma da una parte come alternativa a Leao, Ciucquezze dall'altra. Abbiamo preso Pulis, ragazzi, siccome ci sarebbe da leccarsi le dita, altrimenti si gode soltanto a metà. In attesa di capire chi sarà il 9. Il 9 è importante, è importante, è molto importante che Sicilio farà le sue partite e farà tanti gol. Vediamo cosa succede. Comunque Lukaku, ragazzi, uno di noi, concedetemi la battuta. E che di che vi piacerebbe? Io voglio qualcosa di più, di più pronto. E su Gabbia vediamo poi se resta Colombo oppure c'è qualche altro piano diverso. Commentate numerosi, vi rimando poi al video di questa mattina che vi parlo anche di altro. lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte se amate il Milan. Chi non si iscrive tifa la seconda squadra di Milano, quindi Lukaku si iscriverà perché non tifa la seconda squadra di Milano. E lì ragazzi, popcorn, ci divertiamo un po' anche noi. Non prendiamoci troppo sul serio, ovviamente pensiamo al Milan, però vediamo cosa succede. Un abbraccio a tutti e forza Milano oggi più che mai, domani ancora di più. Qui l'iscrizione arriviamo presto a 100.000 iscritti. Il video di questa mattina. Grazie a tutti. Grazie a tutti.